800 premesse dovrei fare prima di cominciare con lo su vuoto alla spesa la prima premessa è che qui c'è una lista la seconda premessa è che stamattina avevamo una vaccinazione di mia figlia quindi è venuta anche la mia ragazza ovviamente è venuta mia figlia il passeggino una cosa in altra avremmo dovuto prendere poi no di ritorno dalla vaccinazione al supermercato talmente tante cose che per questione di spazio non avremmo potuto quindi abbiamo fatto la spesa necessaria perché ci mancavano proprio le cose basilari anche per cenare stasera in realtà per pranzare e per cenare e quindi dovrò tornare al supermercato a prendere le cose meno necessarie ma che mancano chiusa parentesi ho speso un botto dei sordi comunque ho preso cose che non avevo previsto e che non erano neanche nella lista comunque bentornati e ben ritrovati vi invito semplicemente a supportare questi contenuti semplicemente lasciando mi piace non costa niente e più mi supportate ovviamente più svuota la spesa vi porterò ultimamente sto portando bene o male un episodio a settimana visto che ultimamente sto a fare anche più spesa del solito potrei portarvi anche due episodi settimanali fatemelo capire con un mi piace iscrivetevi attivate la campanella più che altro per restare voi sempre aggiornati sui contenuti che pubblico vi ricordo che ho due canali di calcio se vi interessa il calcio vi lascio i canali in infobox durante il video compariranno qui ma più che altro perché mi piacerebbe arrivare a centomila iscritti anche su questo canale su due canali di calcio ci sono riuscito ci sono riuscito ci siete riusciti ma avete aiutato voi perché io da solo non avrei mai potuto mi piacerebbe farlo anche qui più che altro riceve il badge di youtube una cosa mia personale per dire c'ho tutti e tre i badge di tutti e tre i canali youtube comunque se vi interessa iscrivetevi detto questo partiamo con il contenuto la cosa basilare che mancava in assoluto era l'acqua acqua liscia acqua frizzante ancora abbiamo 7 8 bottiglie che poi ho commesso l'errore di fare talmente tanta scorta che saranno sì forse una mesata o due che non compro acqua frizzante il problema sapete qual è che nonostante non sia scaduta o è una fissa mia mentale però l'acqua quella più vecchia che ho comprato e che sto utilizzando adesso mi sembra meno frizzante quindi le sto facendo proprio terminare poi eviterò di fare proprio una scorta di quelle super perché l'acqua frizzante a me piace frizzante cioè apri bella che frizza e via dicendo se poi deve diventare così poi non so ripeto può essere pure una fissa mia ma no perché quando vado a beve sento la differenza acqua liscia stavamo proprio agli sgoccioli ho preso tre valigette una di quelle piccole valigette quelle con le bottigliette da da quanto so quelle bottigliette da mezzo litro c'ho avuto un attimo di vuoto e quelle da un litro e mezzo mi piace quella sono passata all'eurospin oggi e poi domani andrò anche al conad ho preso quella roccia viva si chiama quella alta di monta acqua di montagna di alta montagna e ok e va bene detto due valigette una litro e mezzo e una valigetta da mezzo litro detto questo ho preso cose anche un po differenti dal solito solitamente vabbè lo sapete poi quando va a fare la spesa che devo inventare bene o male quello e il supermercato quelle cose che ci stanno ogni tanto prendi un prodotto un po più di nicchia ok ma bene o male e ok devono andare a prendere la carta igienica devono andare a prendere i fazzoletti quelli i rotoli scottex che stanno vedete eccolo questo qua è il rotolo scottex quello si fa tutto domani perché comunque ancora ce l'ho non era una cosa strettamente necessaria questi in realtà potevo anche farne a meno ce n'ho ancora qualcuno però ho detto vabbè prendiamoli i bicchieri quelli di finta plastica che costano 700 euro a bicchiere e va bene così io solitamente ma bevo mi attacca le bottiglie e ognuno ha i suoi personali qua dentro o se no bicchieri quelli di vetro però quando arrivano ospiti ok magari capito una cosa un po più igienica e via dicendo allora poi questo l'ho già preso qualche tempo fa ci siamo trovati bene molto 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 buono чит e niente ci siamo trovati bene l'abbiamo ripreso c'è una buona profumazione sembra pulisca bene le mani due litri così abbiamo una bella ricarica vi faccio prima vedere le cose che prendo di solito poi i prodotti un po più di nicchia signora bocca e fa caldo a noi l'estate via di primavera estate ma pure autunno fino a che non rifà freddo a noi ci piace mettere una fetta di limone dentro l'acqua frizzante dentro la coca cola anche se la beviamo poco oppure proprio una bella limonata quindi è un prodotto che utilizziamo molto molto spesso molto molto buoni allora poi andiamo avanti vi ho detto prima che faccio vedere le cose che vedete di solito poi i prodotti di nicchia quindi ho ripreso che poi ragazzi vi posso dire una cosa vabbè non vi faccio vedere mi sono sbagliato mi sono sbagliato mi sono scordato e uno di questi ce l'ho qua dentro ma è scaduto sulle confezioni di salmone non c'è scritto da consumarsi preferibilmente c'è scritto da consumarsi entro quindi seppure è scaduto da un paio di giorni lo devo buttare son deciso se darlo ai gatti onestamente non so ditemi voi gli è può fa male scaduto da due giorni qua c'è scritto da consumare entro categorico non preferibilmente quindi io non vorrei rischiare fatemi sapere se lo posso dai gatti se secondo voi insomma due giorni di scadenza ma forse sono tre giorni di scadenza possono fare differenza o meno ne ho riprese due stecche questo c'è una scadenza ovviamente abbastanza lunga quindi c'ho possibilità di consumarlo in tutta in tutta tranquillità e una pasta al salmone una tartina perché sapete ve l'ho già detto anzi vi faccio vedere no io spesso questi ci poi fa i toast io poi c'ho la griglia metto i toast prosciutto cotto sottiletta mozzarella e via dicendo oppure la fetta singola la fai stava di arrostire come dice vabbè quella roba metti sopra la griglia se scalda se fa bella croccante ci metti sopra una fetta di salmone un po' di spalmabile quello sempre dell'eurospin è buono comunque filadelfia e chi si è visto si è visto quindi duplice funzione poi allora queste sono cose nuove queste poi ve le faccio vedere sono curioso di provarle prendiamo sulle cose quelle più normali quelle più perché sono fragili queste uova perché stava vicino ai sorgerati bene uova 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 ok io prendo queste biologiche speriamo che sia vero che ne è una cazzata ok va bene così poi vabbè queste sono la base della cucina del gabon sapete eh aglio e cipolla de cannara ovviamente cipolle de tropea chiamatele come mi pare ok buonissime queste sono proprio buone ragazzi poi ultimamente sto facendo i fagioli spacco mezza cipolla a fettine o a pezzettini dipende come mi gira ho qualcosa per tagliare proprio a fettine fettine tipo quelle del burger king dei panini ok oppure a quadratini ok tutta un po' eh e fagioli e cipolle poi volendo pure il tonno però dopo è troppo pesante una volta faccio col tonno una volta faccio le cipolle poi respiri addosso a qualcuno o crepi però comunque ok perfetto poi allora vabbè ormai lo sapete io quando vado all'eurospin questa è la migliore ehm è provola treccia in realtà di provola affumicata e perché dico che è la migliore perché la puoi prendere al conad la puoi prendere un po' dappertutto ma questa rimane quando la fai sulla piastra o in padella rimane un po' più liquida dice che significa che non se brucia non se secca ma caccia quella sorta di sughetto che se tu poi ci vai a mettere sopra una fetta di specca alto adige no al contrario mannaggia ci metti una fetta di specca alto adige e rimane bella morbida con pezzetto di pane a fianco pezzetto di pane ma gli tagli spettacolare altrimenti ci stanno anche altri tipi che però ripeto non sono fatte per fare un padella se seccano se fanno questa è perfetta quella dell'eurospin costa tanto due ore e cinquanta due pezzetti ma in realtà uno divido la fetta e facciamo una volta in due con questo cioè una volta e una volta sono due magnate diverse e ok poi che vi faccio vedere avevo una voglia di una cosa stasera l'ho presa anzi due cose che stasera ho preso vabbè ah no queste non no queste che prendo spesso quelle sono cose che non prendo di solito vabbè sapete che io e i piselli siamo l'unico grande amore praticamente ed è tanta e tanta gente ok quindi viva i piselli i love piselli finissimi perché quelli doppissimi fanno male quando ok perfetto poi allora vabbè vi faccio vedere questi questi appiati la ragazza mia ha presi la ragazza mia di solito non li prendiamo all'eurospin ma tanto dovrebbero essere più economici in teoria ma tanto ormai pure l'eurospin ha fatto prezzi proprio Dexal questo è quello per pulire cesso per pulire i cessi praticamente quando vi dicono va andata a pulire i cessi questo si usa per pulire i cessi io pulisco spesso i cessi perché sono un maniaco del pulito e della pulizia detto ma non troppo detto questo certe volte mi scordo lo lavo il cesso per una settimana poi invece quando mi piglio lo lavo due volte al minuto e lo scioglie calcare sarà vero che elimina il calcare? proviamo ma tanto ok quando è cambi direttamente ricambi tutto il cordoccino il coso i cessi le cose stura cessi e via di certo perfetto allora questo non mi ricordo l'ho già preso in un altro contenuto mi pare che ve l'ho fatto vedere perché c'è stato un giorno in cui ho fatto lo svuoto non ho fatto lo svuoto alla spesa perché avevo preso tre cose tre e no forse era proprio quel giorno mi sa che ne avete visto o forse sì vabbè comunque l'ho ripreso succo d'ananas senza zuccheri zuccheri aggiunti contiene naturalmente zuccheri quindi gli zuccheri naturali della frutta io non prendo più non bevo più bevande con aggiunte di zucchero perché proprio beh che fanno male primo e secondo è una cosa sicuramente più salutare poi bisogna vedere se è vero perché in realtà sentire il sapore sembra lo zuccherato cioè se tu compri un ananas a spacchia a tranci a fai a strisci così e ti a bevi non è così dolce solitamente quindi devo capire se c'è stata una piaccia comunque è 60% frutta che furbi il 40% è acqua è troppo bello per essere vero vabbè non costa tantissimo è ok e ho voluto provare non l'ho mai preso quello senza zuccheri dell'Eurospin ma sono curioso di provarlo qui c'è il 65% di frutta quello d'arancia succo d'arancia lo proverò e vi farò sapere questo deve essere amaro ovviamente se non sarà amaro qualcosa non torna e va bene perché sapete che le arance non è che so quelle rosse sono belle dolci queste non tanto solitamente sono belle asprette amarognole quindi staremo a vedere vi faccio sapere e vabbè se piglio i piselli ma secondo voi non me piglio i cetrioli non l'ho presi per mangiarli ve lo dico proprio onestamente soprattutto questo questo so scherzare soprattutto questo questo qui per un'insalata o per momenti di fanno sempre insomma capito per distendersi ecco mettiamola così in tutti i sensi proprio no ok bene perfetto poi anche questi non me li mangierò mai questo proprio lo lascio direttamente asparagi sto scherzare ragazzi qualcuno ci crede veramente con questo ci voglio fare la pasta oggi pasta asparagi e panna ma bisogna vedere se ce l'ha mai la panna o se ce l'ha mai scaduta al limite famo solo asparagi volendo ci posso mettere però c'ho la pancetta affumicata che mi è rimasta asparagi e pancetta se ci metto se ci metto la pancetta non ci metto la panna se no c'ho pure i cubetti di prosciutto cotto e posso farli ca la panna se no faccio solo questi ca la panna scaduta ma mio vabbè cominciano le cose un po più particolari anzi no ancora no scusate prosciutto cotto sapete perché ho preso vabbè lo speck lo sapete perché il prosciutto cotto l'ho preso perché stasera probabilmente facciamo questo facciamo queste e piadine facciamo piadine prosciutto cotto e la mia idea principale e cardine era dei falli con questo è un prodotto che non avete mai visto perché non l'ho mai comprato non l'ho mai comprato no sta marca qua non l'ho mai comprata col cheddar poi però mentre stavamo negli scaffali ho pensato ma forse c'è piadina prosciutto cotto e cheddar non è che c'è tanto cheddar poi mette che ne so sopra una cosa di carne fare il panino tipo mcdonald no quindi ho detto vabbè lo lascio lo prendo perché c'è una scadenza abbastanza lunga dico però forse è più indicato è più indicata questa no a fette la scamorza affumicata fai una fetta di scamorza due fette forse no perché sono piadine piccole queste una fetta una fetta di prosciutto una fetta di questa fai la piadina la metti alla piastra e chi si è visto si è visto di solito le faccio con la mozzarella io le piadine però a sto giro ho voluto ho voluto cambiare il cheddar lo utilizzerò sicuramente cioè 1787 utilizzi no ecco per esempio il cheddar si potrebbe utilizzare con questo prodotto con i burgeroni petto di pollo fai un burgerone prendi non l'ho comprati perché a me poi non piacciono quelli del supermercato quelli imbustati io li vado a prendere dal panettiere freschi panini tipo mcdonald quelli con i semi di sesamo sopra e lo spacchi cuoci uno di questi ci metti una fetta di cheddar ragazzi e te fai un panino mcdonald praticamente a stessa identica cosa forse anche un po' più salutare probabilmente questi però non l'ho mai presi di questa marca li voglio provare per questo motivo c'hanno un prezzo sicuramente competitivo abbastanza abbordabile proviamo e sentiamo la variante la variante io di solito le prendo di un'altra marca prendo i teneroni solitamente questi si chiamano burgeroni come quelli però questo è prosciutto cotto e mozzarella quindi ce l'ho un pacco tra l'altro dei teneroni prosciutto cotto e mozzarella al surgelatore surgelati dieci giorni prima che scadessero il problema è che sono scaduti l'anno scorso a aprile e sapete benissimo in che giorno dell'anno siamo quindi aprile 2022 quindi non so se da surgelati durano tutto quel tempo io sapevo che la carne surgelata massimo sei mesi poi va buttata quindi probabilmente sono andati al creatore e li ho sostituiti con questi fino a che non scadono ovviamente ritengo un frigo poi se ancora non l'ho usato in giorno prima della scadenza i video li butto là e tra l'anno poi li butterò perché tanto va a finire così perfetto ok detto questo questi li vedete spesso li ho finiti come aperitivo ragazzi sono una meraviglia sono spettacolo li mangio molto molto spesso insomma una volta ogni due settimane un sabato una domenica facciamo del solito 3 e 2 per 1 3 e 2 3 e 2 facciamo 6 e 4 10 in totale li mettiamo sulla griglia noi dice come sulla piastra quella elettrica due secondi il tempo che è escono bene senza staffare padelle e cavoli vari sta 10 minuti di cottura e sta a posto e va bene poi giusto per stare in salute e questo non li ho mai presi sono curioso di assaggiarli perché mi ricordano i cuori di brie di brie che compravo al mcdonald e che non esistono più e questi sono bocconcini di formaggio anche in forno probabilmente li farò alla griglia probabilmente non credo stasera ma vediamo però quanti ce ne stanno dentro sotto uno per uno a botta a sera perché sennò schiatti insomma chissà quanto formaggio c'è dentro dipende è capace pure che dentro c'è sta poco o nulla poi scusate è colpa dei piselli allora questi non li ho mai provati dell'eurospin li voglio provare solitamente noi prendiamo sempre la stessa marca alconad che costano un botto e sono buonissimi fiori di zucca questi sono vari a gusto alice e mozzarella quelli classici se possono friggio se possono fa io oppure questi faccio sulla sulla piastra ecco elettrica mettiamola così ha stati ravvento pensavo che stesse a bussa qualcuno e li proverò e vi farò sapere poi questo mancava è quasi finito e l'ho ripreso ovviamente l'alcol quello che durante ai tempi costava 900 euro a qualcosa veramente vergognoso adesso è tornato a prezzi abbordabili seppur non è non è mai più tornato ai vecchi 69 centesimi 99 centesimi costava e va bene ah così le botto senza senso due pizzette a caso sempre buone e camomilla setacciata sì perché noi prendiamo solo quella setacciata quella solubile non mi piace vi dico la verità mo ci mettono tutte se stronzate la peratonina a bananatonina la melatonina e via dicendo non ci frega un cazzo già la camomilla già mi piglio una camomilla la sera già ma lebrate su figuratevi se se ci mettono pure la peratonina a melatonina a bananatonina e non costano tantissimo 1,60 euro mi pare come 20 filtri la utilizziamo spesso e questo vabbè lo prendo sempre praticamente è il più buono ve l'ho detto tra tutti quelli che ho provato conad ins nonne e zie quello più buono e forse quello più economico e di queste c'avevo particolare voglia da capire se sono made in italy perché io eccolo la nelle zone più pastorali del lazio per il fabbisogno le coppiette vengono utilizzate come snack durante i grandi percorsi copiuti nasce nelle zone del lazio ah ecco allora non è prodotto nel lazio probabilmente no prodotto in italia ma non nel lazio comunque 2,36 euro non so tantissimo le coppiette so tantissimo ma non me le mangio da una vita e ci volevo da una bottarella ecco detto questo ho finito la spesa per la modica cifra di tra l'altro sono andato a mettere la carta e mi passava avevo finito i sordi bene per fortuna c'avevo contanti se no praticamente non lo so io pulivo i cessi dell'euro spin tanto sgrassatore ho comprato e pagavo 76 quante volte dei puli cessi 77 euro e 45 ragazzi ho dato 80 bombe 80 sacchi in contanti ma ho dato 2,55 del resto quindi perfetto tutto pagato tutto a posto 80 euro per fortuna che doveva essere una spesa rinforzino in realtà perché poi domani mancano altre cose che devo prendere però non c'era spazio in macchina quelle meno necessarie che però sono necessarie vi ringrazio per la visione alla prossima con un nuovo video non riesco più a fare svuotare la spesa come una volta dei 6 minuti 8 minuti non ho capito perché cioè sempre bene o male le stesse cose sempre lo stesso prezzo 18 minuti dei video ciao